buonasera carissime buon erev tanit ester che domani mattina abbiamo detto mister allora toccheremo due tre punti però come si dice sempre tadir kodem dunque andiamo dal tadir dunque molto velocemente in sintesi il contenuto della parasha di vaikra che come abbiamo iniziato domenica scorsa e allora abbiamo si parte dalle offerte spontanee sapete ci sono diversi tipi di offerte di corbanotto di sacrifici c'è quello che è l'olà che è tutto sale da Hashem c'è la minhà poi anche l'olà c'è quello prelevato dai bovini quello dal greggio quello dai volatori poi c'è la minhà quella non cotta quella in forno in padella nella teglia poi abbiamo le offerte delle primizie del grano poi abbiamo un corban shlamim che abbiamo iniziato stamattina ne abbiamo appunto studiato nella comace nella parte di stamattina shlamim dalla parola shalom e poi dai bovini dal greggio e dai capretti sempre di shlamim un attimo sì ci sono tante prese allora allora dietro il letto e e davanti al moco dietro la 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 sedia giù nella sedia ah allora in cucina c'è nel cassetto grazie scusa ciao mico ciao carissima ciao ora sono ciao cara buon erev tanit ester mamma mia mamma mia perché quest'anno dobbiamo fare uno sforzo più diciamo hanno chiesto giustamente vabbè allora stavo facendo la sintesi parashat vaitra dove abbiamo queste offerte spontanee partendo dall'olà poi dalla minhà poi dal shlamim poi si passa al khattat e anche diversi tipi di khattat poi abbiamo la sham che sia farinacea per un sacrificio khattat e quella che bisogna portare nel caso di un utilizzo in proprio di cose appunto consacrate o per una trasgressione non certa dove si ha il dubbio se si ha trasgredito o meno e per un atto disonesto queste sono molto in grandi linee le ehm gli argomenti un secondo un secondo traduttore scusate eccomi qua ciao rosella ciao carissima evviva la toscana in prevalenza abbiamo allora e allora siamo partiti che dicevo dalla salta carissima benvenuta siamo partiti dalla sintesi del della parashat vaitra dove abbiamo visto appunto la lista di tutte e i tipi di offerte di sacrifici che si portavano appunto e al nishkan prima betta mitash dopo vediamo anche uno spunto però giustamente e anche se ci sarebbe da sviluppare ore questa parashat eh secondo la chassidut e tutto quello che c'è dietro questo mondo dei sacrifici e allora partiamo dal primo pere e la subbette dove dice adam chi accredit mi chiam corban la scelta la persona che vuole sacrificare tra di voi un sacrificio per e che era come sappiamo poi tra tutti i servizi che c'erano nel nishkan e nel betta mitash e la votata corbanotto di questo servizio dei sacrifici era forse più essenziale in un certo senso e in realtà dunque non è solo esistita allora prima nel deserto poi nel israele poi nel betta mitash eccetera ma e questo tipo di servizio divino chiamato corbanotto esiste in ogni generazione e da ogni prima visto che come ben sappiamo la torah è eterna ha dunque anche questo concetto delle corbanotto dei sacrifici è eterno dunque anche adesso che di fatto non abbiamo nishkan o betta mitash ancora e infatti quando torniamo anche indietro un attimo a shemot il fumash precedente capitolo 25 passuk 8 e quando appunto hashem aveva chiesto al popolo di costruire un mishkan e la la famoso passuk v'asuli mishkan v'esha hant i betto hant la richiesta di hashem era di costruire di fatto un mishkan ma di modo che io possa risiedere in loro non nel mishkan ma soprattutto in loro cioè come diceva rashi e dunque a proposito di questo servizio della corbanotto allora abbiamo elencato il shlamini il khattat lola eccetera e c'è anche questo corbanat amide questo sacrificio perenne allora questo sacrificio perenne era quello che si offriva tutti i giorni mattina e sera e cosa esprime diciamo questo corban il sederachain come viene definito vuol dire l'ordine della vita in questo caso ovviamente dell'ebreo nel nel quotidiano prima vediamo di capire un attimino com'era questo corban allora era un corban diciamo dei meno costosi diciamo perché era fatto di questo agnello con l'aggiunta di un po' di olio di farina e di sale e non c'era l'obbligo di offrirlo in modo eh individuale ma doveva essere appunto un'offerta di tutto il popolo dunque ognuno pagava una somma annuale una somma irrisoria simbolica e con questa somma compravano appunto si eh compravano questi eh queste corbanot questi sacrifici ben definiti corbantamide per tutto l'anno e questo corban portava la pachà di Hashem per un buon anno le shanatova un slahat ogni ebreo eh nel mondo allora ehm cosa ci insegna in realtà che quello che Hashem richiede dall'uomo è di dare non è piuttosto di dare tutto quello che si ha al betamiddash cioè a Hashem in questo caso oggi senza lasciare niente a noi ma come infatti vediamo questo corban abbiamo detto che è un corban che costava poco cioè era solo una eh si richiedeva una somma simbolica allora che cosa vuol dire che quello che si dà cioè anche una somma irrisoria deve essere data con gioia e con tutto il cuore dunque non è la quantità ma la qualità dunque darlo con un cuore puro con gioia con entusiasmo e con coinvolgimento e un altro punto che vediamo a proposito di questo sacrificio particolare ma ovviamente parlando di tutti i sacrifici in genere ma questo in particolare che come vi dicevo prima si eh veniva offerto tutti i giorni mattina e sera dunque la mattina prima di offrire tutte le altri sacrifici e la sera dopo aver eh sacrificato dunque tutti gli altri come poi è sviluppato nel trattato di pesachin cinquantotto e dunque però viene comunque chiamato tamid tamid vuol dire perenne in realtà era offerto due volte al giorno non era tutto il giorno che offrivano questo corpano e perché però veniva chiamato tamid perché la influiva questo questo sacrificio influiva su tutto il resto del eh del servizio divino della giornata e infatti come spiegarebbe appunto la chassidut che eh le le nostre vite alla fine tre quarti della giornata eh non si è occupati a eh studiare a parte quelli che hanno la fortuna di poterlo fare ma normalmente nella stragrande maggioranza eh si è occupati a portare la pannassà al lavoro forse della casa dei figli della spesa e tutta la lista del quotidiano e dunque non sempre si può risentire in queste azioni diciamo quotidiane banali o materiali anche non banali anche sempre si sente questa questa santità perché un conto mentre sto pregando un conto mentre sto eh studi studi piano torà e via dicendo lavoro mi sto andando a fare la spesa e quant'altro lì risentire la non è evidente diciamo così e dunque eh ecco perché come parte parte la giornata con il corbantà cioè di esprimere questa questa questo amore per Hashem e questo questo servizio divino che lo possa proteggere durante tutta la giornata e cosa come si esprime oggi come oggi tutti noi ogni ebreo da anni bimbo e bimba dai tre anni in su anche prima volento con la preghiera del mattina cioè quando appena apriamo l'occhio prima di tutto eh il lavoro quotidiano appunto cosa cosa esprimiamo? La riconoscenza verso Hashem che ci ha ridato l'anima e la e come lo definiamo re vivente eh ciao carissima e come ecco ciao carissima no stiamo parlando abbiamo eh ecco da Nicole dice dai un anno e mezzo fantastica bravissima Nicole che c'è un asilo appunto dice che già dalle ho detto dai tre anni anche prima allora da Nicole dice che è un asilo asilo nido già dall'età di un anno e mezzo eh già mi fanno fare il modernismo e così parte la giornata come allora stavamo spiegando appunto dei sacrifici abbiamo eh mi sono soffermata nel sacrificio quello definito perenne tamiti quello che si offriva la mattina prima dei sacrifici la sera dopo tutti gli altri sacrifici e che lo si si acquistava questo questo questi animali che si usavano per questo sacrificio da questa cassa comune alla quale partecipava tutto il popolo con una eh eh con un'offerta eh simbolica diciamo così e dunque oggi che non abbiamo non abbiamo non abbiamo non abbiamo qual è la nostra offerta prima cosa la mattina prima di tutto prima di ogni azione del quotidiano è il modernismo e dunque con questa affermazione ringraziamo per averci per averci ridato la vita lo definiamo re e questa questa nostra sottomissione alla re dei re a Kadosh Barofu all'inizio della giornata è come se avessimo offerto questo eh sacrificio perenne dunque anche che cosa prende? Minuto no Eh questa è questa espressione queste parole di ringraziamento da Skem queste poche parole perché appunto precisiamo hanno un effetto duraturo appunto su tutta la giornata e dunque come dicevamo prima anche quando siamo occupati che non è prettamente Torah o Mitzvah ma pulire, far la spesa, lavorare, non il suo lavoro e quant'altro, comunque questo Modeani della mattina che appunto paragonato a Bantamid e che rappresenta anche questa sottomissione assoluta alla re dei re, porta a far sì che tutta la sua giornata è una giornata colma della santità di Akkadosh Barofu, dunque anche in tutto quello che fa, dunque come vediamo un esempio, poi come dicevo ci sono tantissimi punti da sviluppare, che potremmo sviluppare solo su le Corbanot, però giusto, ecco, ho dato un esempio del Corban Tamid che è della sua importanza e di come poi di fatto lo effettuiamo oggi come oggi. E passiamo alla Haftarah, come ogni settimana che abbiamo preso gusto di studiare appunto l'Haftarah, allora Maftir e Haftarah, come sapete questo Shabbat è Shabbat Zahor, molto importante, uomini, donne e bambini, tutti fare il possibile di andare al Tempio e di sentire la Parashah di Zahor. E la Parashah di Zahor, ricordo, si trova nel Fumash Bevarim, ultimo Fumash, capitolo 25, Ipsukim 17, 18 e 19, che è questa, dunque leggeremo la Parashah di Baitra, sarà poi il Maftir, invece di ripetere l'ultima parte come si fa ogni settimana, il Maftir sarà invece a Parashah Kitizeh del Fumash Bevarim, dove diremo, ricorda che la disonestà nelle misure potrebbe provocare quello che ti ha fatto Amalè, lungo la strada, quando uscivate dall'Egitto, è lui Amalè che, appunto lungo la strada, ha attenuato il timore che le nazioni avevano di te, colpendo e devirando tutti quelli che, essendo più deboli, erano dietro di te. Tu eri stanco per la sete, spossato per il viaggio, mentre lui non ha avuto timore del castigo che avrebbe ricevuto da Hashem, pertanto, quando Hashem, tuo Dio, ti darà una pregua da tutti i tuoi nemici che ti attorniano nel paese, che Hashem, tuo Dio, ti dà come eredità a prendere un porno al sesso, a quel punto cancellerai da sotto i cieli ogni persona e ogni animale che possa costituire un ricordo di Amalè, non dimenticare ciò che ti ha fatto. Dunque, questo è quello che leggeremo nella Haftarà, nel Maftir Padò. E dal Maftir passiamo alla Haftarà. Allora, l'Haftarà è, dunque, non è quella di Vaikra, questo Shabbat Zahra, l'Haftarà di Shabbat Zahor, dove siamo al capitolo 15 di Shmuel Aleph, Samuele I, e appunto parla della vittoria di Shaul su Amalè, però purtroppo anche dell'inadempienza a eseguire l'ordine di Hashem perché, come sapete, Hashem aveva chiesto di distruggere tutto Amalè, come abbiamo anche letto nel Maftir, quello che Shaul non fece, infatti. Allora, brevemente vi ricordo e poi sviluppiamo un concetto appunto sulla Haftarà, vediamo di spiegarlo. Allora, Shmuel, profeta Shmuel, che ha lo stesso valore, come sapete, che Shmuel, spiritualmente parlando, lo stesso valore di Moshe e Aromes insieme. Parliamo di un grande della nostra storia. Ciao carissima Brukabba. Allora, abbiamo fatto la sintesi di Parashat Balkra, abbiamo sviluppato un punto sul Corbantamid, abbiamo letto il Maftir e adesso siamo alla Haftarà. Dunque, nell'Haftarà, Shmuel si rivolge a Shaul e gli dice che Hashem ha mandato un gir di re del suo popolo e ascolta la voce, dunque, delle parole di Hashem. Così ha detto Hashem, Dio delle schiere, conservo il ricordo di ciò che Amalek fece a Israele, che gli tese un agguato quando, uscendo dall'Egitto, si trovava in viaggio, ecco perché ora devi andare a colpire Amalek, distruggere completamente tutto ciò che gli appartiene, senza inquietosirti per lui. Perché è uno dei tre segni dell'ebreo, come sappiamo, Rahmanim, Baishanim, il primo, dunque, in questo caso, c'è un'eccezione, che è quando si tratta di un nemico, ma non qualsiasi, di Amalek. Quando si tratta di Amalek, questa qualità tua, unica, dell'ebreo, che è uno dei tre segni, appunto, il primo dei tre segni, in questo caso non la devi attuare, perché non devi impietosirti. Infatti dovrai mettere morti tutti, uomini, donne, bambini, lattanti, bovini, ovini, cabelli, asini. Proprio non lasciare un ricordo. E Shaul a questo punto fece l'annuncio al popolo, poi fece il censimento usando gli agnelli del suo greggio, perché sapete che non si può fare appunto il censimento, e risultarono 200.000 soldati di fianteria, compresi 10.000 uomini della tribù di Utah. Con loro giunse nella città di Amalek, fece loro la guerra nel valle, e però lì si trovavano anche i discendenti di Tro, che erano i Keniti, e a loro Shaul si è rivolto dicendo ritiratevi dagli Amalekiti, di modo che non vi distruggerò in mezzo a loro. Questo perché voi allora avete usato misericordia con noi, figli di Israele, quando siamo usciti dall'Egitto. Dunque, meritate di essere sapati e non annientati con gli Amalekiti. E così fecero i Keniti si allontanarono e a quel punto Shaul potè sconfiggere gli Amalekiti da Havilah, fino a Shur, che si trova di fronte all'Egitto, e catturò vivo il re Agag. Dunque distrusse a fil di spada tutto il popolo, però il re Agag e Tennini. E questo aver avuto pietà di Agag vediamo sarà un errore fatale, perché non si è fermato anche al re, a pietorsersi del re, ma anche della parte migliore degli ovini e dei bovini, quelli particolarmente grassi, gli agnelli, dunque tutto ciò che era particolarmente buono, e hanno detto ma peccato uno spreco e usiamolo per offrirlo ad Hashem. Tutto ciò che era poco valero, spregevolo, invece l'hanno sterminato. A quel punto la parola di Hashem giunse a Shmuel e gli disse no, sto riconsiderando la scelta di aver messo Shaul come re, che a sua volta Shmuel aveva unto come primo re di Israele, perché ha smesso di insicurermi e non ha fatto ciò che gli ha comandato. Shmuel potete immaginare come si inquietò e arrivò da Hashem per tutta la notte, poi al mattino vandò per incontrare Shaul, ma gli fu detto che Shaul era andato al carnet. Allora là si è costruito un luogo, appunto dove spartire tutto il bottino con l'esercito, e poi è sceso al Gurgal. Quando Shmuel arrivò, venne da Shaul, e il re Shaul lo vede e disse oh, che tu sia benedetto da Hashem, perché grazie a te ho tempiuto l'ordine di Hashem. Però Shmuel reagisce in modo e dice un attimo, cos'è questo belato di decore che giunge alle mie orecchie? cos'è il mugito di buoi che sento? E allora Shaul, un po' fiero, dice no, li hanno condotti qui, dopo averli presi appunto dai macchie di Chiti, e sono quelli che il popolo ha risparmiato, essendo la parte migliore degli ovini, degli ovini, per poter sacrificarli ad Hashem. Poi il rimanente l'abbiamo distrutto completamente come da richiesta. A quel punto Shmuel disse a Shaul, aspetta perché adesso ti dirò quello che Hashem mi ha detto questa notte. Dice, parla pure, dice non provieni forse dalla principale delle tribù di Israele anche se ti stimi di poca importanza? È per questo motivo che Hashem ha avuto il re di Israele, che ha mandato in missione, dicendo di distruggere completamente i peccatori, che sono tutti gli uomini di Amalek, di combattere, e però quei tuoi uomini non li avete completamente annientati. Perché allora non hai dato ascolto la parola di Hashem, ma ti sei avventato sulla preda e hai fatto ciò che è male davanti ad Hashem. Domanda. E Shaul invece risponde ma io ho obbedito la voce di Hashem, ho seguito la strada che mi ha indicato, ecco condotto qui a Gaddi, tra i di Amalek, e popolo completamente distrutto, e a proposito dei bovini e dovini è stato il popolo a prelevarli, che era il meglio di ciò che doveva essere distrutto, e come ho detto prima, per appunto sacrificarlo ad Hashem. E qui una frase fortissima che gli risponde Shmuel dice credi che Hashem desidera ollecausti e sacrifici allo stesso modo di quanto desidera che si obbedisca al comando, al suo comando. E questo vi ricordate quando leggiamo i Teidim la mattina, l'abbiamo anche rivisto nei Teidim, dove appunto si ritrova più volte questo concetto. dunque obbedire al comando di Hashem è ovviamente molto meglio che offrire un sacrificio e ascoltare è meglio che offrire il grasso del mito. Perché la ribellione è come il peccato di stregonoria e la punizione per la caparvietà equivale a quella prevista per chi adora le divinità pagane, i trafini, gli idoli. E dal momento che non hai tenuto conto della parola di Hashem, non ti ritieni più degno di essere re di Israele. A quel punto Shaul capisce di aver commesso un peccato in buona fede, adesso poi spiegheremo se avremo ancora un minuto, dice ho trasgredito l'ordine di Hashem, ha detto parole, ho avuto timore di Doeg, che era il pre-rappresentatore del popolo, ha ascoltato ciò che gli aveva detto, ti prego però perdona ora il mio peccato, torna con me, io mi chinerò ad Hashem, ma Shmuel, Samuel disse a Shaul non tornerò più con te perché hai rigettato la parola di Hashem e pertanto non ti ritiene più degno di essere re di Israele. Dunque non c'è più via di scampo. Dunque mentre Shmuel si voltava appunto per andarsene e qui abbiamo diverse spiegazioni, certi dicono che Rashadul, certi dicono che Shmuel, comunque Mettiamo Shmuel, gli afferrò l'embo del mantello di Shaul che si strappò e al che disse oggi Hashem ha strappato da te il regno di Israele e lo ha dato a un tuo compagno più degno di te. E ovviamente sappiamo che sarà David Amele. Inoltre Hashem che è la forza di Israele non mentirà un uovo disegnato, non cambierà idea perché non è un uovo per potersi pentire. Shaul a questo punto dice ho peccato ma ti prego di onore davanti agli anziani e hai importato con me mi intinerò davanti a Shem e così fece Shmuel e poi ha chiesto di portargli il re di Amalek a Gag che arrivò da Shmuel in catene rassegnato alla fine e pensando che di certo la mare esperienza della morte si stava avvolgendo verso di lui e infatti Shmuel disse come la tua spada ha privato le donne dei loro cari così tua madre come quelle donne sarà privata del figlio e fece a pezzi a Gag davanti ad Hashem a Gigal poi Shmuel si ricò a Ramà mentre Shaul si incamminò verso casa sua. Dunque cosa vediamo che analizziamo velocemente molto questo concetto molto importante c'è un comandamento di Hashem distruggi tutto uomini, donne, bambini grege non aver pietà di niente di nessuno Shaul lascia in vita il re e il migliore del grege adesso Shaul è stato il primo re di Israele Shaul viene definito con dei termini quando è stato appunto scelto come primo re di Israele come veramente un re a un anno ha regnato non è che aveva un anno quando ha regnato nel senso che era puro come un un infante di un anno vuol dire che parliamo di un grande tzaddik di una grandissima personalità come ha potuto fare un errore di calcolo del genere in realtà ve lo dico molto in sintesi Shaul Amalek sapeva benissimo che lo scopo ultimo della creazione del mondo è di trasformare cioè ci sono i due livelli primo di soggiogare il male e il secondo più alto in assoluto è di trasformare il male in bene in buio in luce e le tenebre eccetera dunque cosa si è detto ha usato un ragionamento dice ah lo scopo ultimo della creazione del mondo è trasformare il male Amalek rappresenta il male assoluto al punto effetto che Shaul voleva distruggerlo ma io cosa faccio invece di distruggerlo trasformo prendo tutto il meglio del suo grece e lo porto ad Hashem in sacrificio dunque tutto il meglio dell'essenza del male andrà sacrificato all'essenza del bene che è Hashem ma qui ha fatto uno sbaglio uno sbaglio capitale che costerà molto caro come sappiamo perché quando c'è di mezzo un comandamento chiaro esplicito di Akadosh Barofu non bisogna coinvolgere nessun tipo di ragionamento personale per quanto eccelso possa sembrare e Hashem ha detto di distruggere tutti e tutto e tutti questo doveva fare punto e a casa e purtroppo questo come abbiamo visto è stato poi Shaul HaMelech è stato colpito da una grave depressione e quant'altro e dunque quando il segnamento proprio brevemente è che quando abbiamo i comandamenti di Hashem chiari ed espliciti per quanto Hashem vuole che coinvolgiamo l'interetto ce l'ha dato dunque dobbiamo coinvolgerlo svilupparlo nello studio della Torah nell'applicazione delle Mitzvot ma non per quanto riguarda un comandamento un comandamento quando è per quello c'è l'Alacha mutar assur permesso vietato ah no secondo me forse è meglio no non c'è il secondo me dunque bisogna la prima cosa la sottomissione assoluta alla volontà di Hashem questo per quanto riguarda l'Aftara detto molto in breve e concludo con il digiuno di Esther e che domani il digiuno di Esther e Purim dunque domani hanno chiesto Rabbanini i genitori degli ostaggi insomma tutto il popolo che si è coinvolto dunque per chi non ha l'abitudine di fare tutto il digiuno di fare tutto il digiuno per chi ha problemi di salute almeno un'ora due un qualcosa uno sforzo che questo Tanit Esther venga osservato da tutto il popolo e come allora anche adesso Hashem possa capovolgere questa queste malefiche intenzioni dei nostri nemici e portarci la Deula e come di fatto anche Esther e Mordecai hanno fatto a suo tempo invece di usare i loro perché come sappiamo Esther era niente poco meno della regina Mordecai uno dei ministri più apprezzati e e o plassè come si direbbe appunto del del regno eppure quello che hanno fatto era il digiuno era la preghiera era la teshuva e e e quello ha fatto sì che tutto eh il decreto si è proprio capovolto trasformato e questo riguarda particolarmente le donne noi donne come ben sapete siamo esenti dalle mitzvot che sono legate al tempo però c'è qualche eccezione come appunto il l'accensione dei lumi di Hanukkah come la la sede anche a Pesach e anche a Purim perché in queste tre occasioni le protagoniste erano le donne eh a Pesach grazie alle donne abbiamo meritato l'esodo eh a Hanukkah con Yehudit che aveva appunto ucciso il capo del capo dell'esercito greco e ehm e a Purim Meghilatester più di così Tanitester Meghilatester dunque in assoluto la protagonista è una donna e dunque dunque come tutte le feste sono legate alle donne a Purim in particolare perché come sappiamo il decreto è stato annullato grazie al fatto che Mordechai ha riunito 22.000 eh bambini e con loro ha studiato Torah con loro ha pregato con loro ha digiunato e questo questi bambini però sono il risultato del l'educazione della Kere Tabai di quella che dà il tono in casa ossia la donna la madre e dunque la salvezza è arrivata grazie all'educazione delle madri di Israele che sono il Karabai e infatti secondo la Kabbalah la donna è legata alla Sfira di Malfut che è parte dell'essenza stessa di Akkadosh Barufu e questo poi lo vedremo molto presto nell'era messianica dove come detto nel Michele capitolo 12 passo 4 esce tra il la terra il bala la donna virtuosa era sarà la corona del marito e ecco perché tramite esterno la donna questo decreto dell'allientamento del popolo ibrancho in un solo giorno in tutti i paesi 127 non c'era via di scampo e grazie dunque a questo miracolo a esterno per la donna e questa guerra concludo esiste purtroppo in ogni generazione come sappiamo Amman che a sua volta è discente da Amalek che tutto il suo scopo è di raffreddare l'ebreo in questo suo entusiasmo per la santità per la Torah dunque oggi come non mai dobbiamo rafforzarci in più Torah più Mitzvot più Massimtovim più Zedakah e come allora appunto è quello che li ha salvati dal da questo decreto di annientamento così grazie a questi bambini appunto che sono il nostro futuro e l'educazione delle donne dei propri mariti dei propri figli del proprio entourage così anche presto anche ci ritroveremo tutte nella Gheulà prestissimo detto ciò ci sarebbe ancora di cose da dire ma vabbè oggi facciamo una cosa un po' più abbreviata e volevo augurarvi a tutti un buonissimo digiuno mi raccomando come dicevo l'importanza appunto di cercare di sentire la parasha il maftire l'aftara di Shabbat Zachor e ovviamente le quattro Mitzvot di Purim tutte e quattro con la Mem la Micra Meghila la sera e poi l'indomani due volte per chi non sapesse certi credono che basta una volta per adempiere la Mitzvah no per adempiere la Mitzvah bisogna due volte sentire tutta la Meghila dal vivo una volta la sera e l'indomani si può dalla mattina fino al tramonto sia il tempo poi ovviamente un Mishloch Manot minimo di due a una persona e minimo due che questo Purim sia l'ultimo della Galut che porti la vera gioia assoluta e totale per tutta Misrael Amen Vi abbraccio forte una a una Amen Amen